Il Dipartimento Regionale Agricoltura ha sfornato altri due bandi relativi ai PSR Calabria. Si tratta di due strumenti relativi alla misura 16 Cooperazione. Il primo, 16.3.1, si chiama Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale. Il secondo, 16.4.1, prende il titolo di Cooperazione di filiera orizzontale e verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali. Il primo bando ha come dotazione finanziaria 2 milioni e mezzo di euro ed è rivolto a partenariati che comprendono almeno due soggetti tra piccoli operatori del settore agricolo-forestale, della filiera agroalimentare e di quella turistica. Obiettivo favorire forme di cooperazione innovative tra piccole imprese attraverso l'adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione delle risorse e dei fattori produttivi. Il PSR mira dunque a migliorare la posizione dei soggetti che collaborano sui mercati di riferimento e al raggiungimento di economia di scala. Tutto questo è possibile tramite progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di produzione e o di commercializzazione ed impianti di lavorazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi. Il secondo bando, con dotazione di 2 milioni di euro, è rivolto ad aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, delle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche. In questo caso si punta alla promozione di progetti che si dimostrino in grado di comporre la filiera corta, anche all'interno di micro distretti a forte caratterizzazione qualitativa dei prodotti, tra cui anche i biodistretti, sia aggregando i produttori primari e migliorando nell'apertura e la posizione sui mercati, sia sostenendo verticalmente la filiera potenziando la distribuzione nell'ambito di mercati locali. Questi bandi del PSR, ha affermato il consigliere regionale delegato all'agricoltura Mauro Dacri, sostengono la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché l'occupazione. Attraverso le risorse del programma di sviluppo rurale si intende favorire la creazione di una nuova imprenditorialità nei settori più innovativi e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo a fermare lo spopolamento delle aree rurali. Non da ultimo, conclude Dacri, con questi bandi si punta a dare impulso a forme di cooperazioni innovative rivolte alla creazione, allo sviluppo e alla promozione di filiere corte e di mercati locali. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 23 aprile esclusivamente sul portale Sian.